Può essere che nelle schede nulle, per esempio che sono più di 80, oppure nelle altre schede ci sia qualche errore di valutazione. L'ex sindaco Cristina Andretta, in corsa alle comunali al fianco di Marco Perin, conferma che la squadra uscita sconfitta dalle urne sta valutando se chiedere formalmente il riconteggio delle schede, viste le poche decine di voti che hanno separato i due sfidanti, solo 43. I nostri rappresentanti di lista, che erano anche i nostri candidati, hanno valutato e ci hanno dato evidenza proprio ieri pomeriggio di alcune particolarità, di alcune cose che secondo loro non andavano e quindi stiamo valutando la possibilità di chiedere il riconteggio. Differenti interpretazioni da un seggio all'altro sulle modalità di voto espresse dagli elettori, Perin e i suoi decideranno a breve se procedere o meno. Andretta comprende e condivide le parole dure dell'ex vice sindaco che ha parlato di tradimento, riferendosi ai compagni di amministrazione che all'ultimo hanno deciso di passare dall'altra parte, come Denise Braccio e Giorgio Marin. Ho dormito forse durante la mia amministrazione perché ci sono stati dei confronti, questo non lo nego, ma non sono mai andati oltre a quello che è un confronto politico o amministrativo. Pertanto nemmeno io mi sarei aspettata questo cambio da parte di alcune persone. Non ho ritirato le delega a nessuno proprio perché non ho capito la motivazione. Se no, insomma, magari probabilmente un personalismo o qualche altra motivazione che magari il tempo mi aiuterà oppure magari un giorno me lo spiegheranno. Se le cose dovessero rimanere come sono ora, buona parte della giunta uscente si ritroverà a sedersi sui banchi dell'opposizione. Che opposizione farete? Sempre costruttiva, l'ho sempre detto, noi non faremo opposizione ma saremo in rappresentanza di una minoranza che è quasi una maggioranza e quindi cercheremo di portare avanti le nostre idee.